Musica Venerdì 2 giugno, Santi, Marcellino e Pietro. È il 153esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 212 al termine. Il sole sorge alle 5.25 e tramonta alle 20.53. La luna si leva alle 19.20 e tramonta alle 3.58. Pur essendo quasi ottantenne, al primo scrutinio viene acclamato ad oggi Carlo Ruzzini. Era stato un eccellente diplomatico e un ottimo ambasciatore e per 30 anni, dal 1691 al 1720, era stato quasi costantemente fuori Venezia. I tre anni del suo principato saranno tra i più tranquilli nella storia della Repubblica. Le previsioni per domani. Tempo da variabile a relativamente instabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi più frequenti sull'entroterra, associati a probabili fasi di precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Le temperature in montagna aumenteranno riguardo alle minime e caleranno riguardo alle massime. In pianura subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le massime prevarranno leggere diminuzioni.